Sai cantare? Sei un mago? Sai ballare? La polca chinata la conosci? Fai ridere? Fai piangere? Sei sciocco? Sei scioccante? Sfidi la forza di gravità? Sei un supereroe? Sei uno straduro? Sai fare le ombre cinesi? Ma soprattutto fai girare le palle in modo sorprendente. Insomma, hai talento? E allora iscriviti ai casting di Italias Got Talent. Iscriviti ai casting su italiasgotalent.sky.it o chiamalo 02 455 08 888 Se hai talento, sei uno di noi. Ti aspettiamo a Napoli. Io ci sono, tu?